Buonasera, l'occasione di questo incontro è la recente pubblicazione di questo bellissimo saggio di Francesco Paolo De Ceglia intitolato Vampir, storia naturale della resurrezione. Ovviamente volevo subito fare una piccola polemica perché Francesco De Ceglia, questo è più di una storia naturale della resurrezione, cosa che è, è in realtà anche una storia culturale del sangue. Adesso Francesco Paolo De Ceglia, a parte bere questo succo di mirtillo spacciandolo per sangue, cosa che credo faccia anche a lezione, l'università italiana, è in realtà un grande studioso di fenomeni coagulatori. Il precedente libro che è uscito, è stato pubblicato sempre per i tipi di Inaudi, è su San Gennaro per esempio. Quindi volevo chiedere a De Ceglia che cos'è questa storia culturale del sangue, qual è il tuo principale, il primo rapporto col sangue, il primo aneddoto che ti viene in mente. Perché dico aneddoto? Perché questo libro, questa storia naturale della resurrezione procede esattamente come per un commento di atti e di aneddoti raccolti nel corso dei secoli su fenomeni che possono essere ascrivibili al vampirismo. Quindi il tuo primo, tra l'altro Francesco Paolo De Ceglia viene da una terra molto studiata da Ernesto De Martino, dove appunto quello spessore tra vita e morte era transitabile in qualche modo. Quindi De Ceglia, il tuo rapporto col sangue? Perché il tuo rapporto col sangue e perché, diciamo, dopo San Gennaro il vampiro? Al netto che questo tuo libro comincia con Gesù Cristo che non è morto, ma in realtà per uno scherzo di Giuseppe d'Arimatea è riuscito, diciamo, a essere uno dei primi revenant della storia moderna. Allora, grazie Chiara. Il mio rapporto col sangue. Il sangue mi fa impressione e forse proprio per questo l'ho studiato, ma devo dire che non sono andato io a cercare il sangue, è il sangue che è venuto a trovarmi. Perché io sono uno storico della scienza, mi occupo di storia della corporeità, di storia della corporeità, quindi del corpo anche morto. E ai tempi, sto parlando di sette, otto, nove anni fa, il primo sangue strano che ho incontrato è stato il sangue di San Gennaro. La cosa buffa che l'ho incontrato in un posto anche geograficamente molto lontano rispetto a quello in cui normalmente si incontra il sangue di San Gennaro. Io vivo a Bari, ma non l'ho certo incontrato a Napoli. All'epoca vivevo in Germania e mi ricordo che mi capitò per le mani una fonte, una fonte svizzera. Era una cronaca di Lucerna degli anni Dieci del Cinquecento, in cui si parlava di una storia che costantemente si poneva in relazione con il sangue di San Gennaro. Ed era una storia giudiziaria molto banale. A Lucerna si sentono marito e moglie un po' bisticciare, dopodiché il marito si allontana, la moglie rimane a casa e il giorno dopo trovano la moglie morta. Il marito non è nella città di Lucerna, non si sa che cosa fare, la donna non ha alcun segno di violenza. Interessante è che il giudice pone in essere quella che all'epoca era una consuetudine giudiziaria che risaliva di un'antica ordelia, in base alla quale si esponeva il cadavere del morto male, del morto ammazzato, e secondo la tradizione questo corpo sarebbe stato in grado di riconoscere il proprio assassino per assicurarlo alla giustizia. Quindi si espone il corpo di questa donna che si chiamava Margrete, si fanno sfidare alcune persone tra le quali c'è suo marito Hans Spies e davanti a Hans il corpo di Margrete perde sangue. Adesso nelle cronache si dice perde sangue, probabilmente anche qualche diquame putrefattivo, ha una reazione. Questa storia già di per sé mi sembrava poco inquadrabile anche nell'idea di storia legale che mi ero sempre fatto leggendo i testi latini, i testi della nostra tradizione. Ma poi, ossessivamente, nei commenti di questa storia, la si poneva in relazione al miracolo di San Gennaro. Tenete presente che nel caso di specie, nel caso di questo fenomeno che nella letteratura latina viene chiamato cruentazione, da cruor, sangue versato, invece sanguis è il sangue presente nel corpo, era stato un fenomeno che fa parte delle antiche ordalie giudiziarie germaniche che però nel corso del IV, del Cinquecento e poi tanto più con la riforma protestante viene ridotto da un miracolo, quale era prima, ad un fenomeno naturale. Voi sapete che durante la riforma protestante c'è quella che viene chiamata la cessazione dei miracoli, cioè i protestanti dicono Dio certo ha fatto i miracoli, li può fare, però che senso avrebbe fare delle leggi naturali per poi infrangerle? Quindi i miracoli sono pochissimi, in barba a ciò che dicono i cattolici. Quindi tutti questi fenomeni come la cruentazione, che sono fenomeni superstiziosi perché il corpo emette sangue perché probabilmente qualcuno è andato a toccarlo per motivi X, ma non c'è un rapporto di causa-effetto, tutti questi fenomeni superstiziosi rientrano come se da un giorno all'altro, non essendoci più miracoli o essendo ridotti al minimo, rientra nel mondo della natura, del naturale, che diventa un ipernaturale, un preternaturale, come se la natura germanica riuscisse a fare delle cose che la natura cattolica non può fare, perché per noi o è un miracolo o la natura si comporta in maniera abbastanza normativa, poco creativa, non ha bisogno delle cause occulte. Quindi questo fenomeno aveva due aspetti interessanti per me. Il primo che mi faceva vedere due Europe, l'Europa protestante e l'Europa cattolica, con due asticelle diverse tra ciò che è naturale e ciò che non lo è. Nell'Europa cattolica la natura non compie troppi scherzi, non gioca, le cose prodigiose sono miracoli. Un'Europa protestante in cui l'asticella era un po' più alzata e la natura è molto più frizzante. L'Europa protestante è quella dove poi alla fine del Settecento è nata la Natu Filosofie, cioè quest'idea delle forze nella natura che agiscono in un paese mediterraneo, cattolico, difficilmente sarebbe successo. Ma questo fenomeno in particolare del sangue che è in grado di indicare l'assassino mi faceva capire una cosa ancora diversa. Qua non stiamo parlando di semplici credenze popolari, erano credenze mediche e giuridiche, cioè le persone venivano condannate a morte in caso di esito positivo della cronentazione. Il fatto che il sangue potesse essere ancora vivo dopo quella che noi definiamo essere la morte dell'individuo. Diceva, paracelso, devi sanguinis ultramortem, la forza del sangue oltre la morte. Esiste un sangue che continua ad essere vivo, esistono delle parti del nostro corpo che continuano ad essere vivi, vive e in qualche modo auroralmente intelligenti, anche quando l'individuo non c'è più. E questo mi delineava un'altra prospettiva diversa tra i paesi del nord Europa, centro nord e paesi del sud sulla differenza tra vita e morte. Guardate, anche qua, noi abbiamo una nozione del rapporto tra vita e morte, cioè il morire in sé, che naturalmente adesso è stata metabolizzata, analizzata dai medici dopo i protocolli di Harvard, molte cose ci sono più chiare. Però dal punto di vista culturale, la nostra morte, soprattutto con il cristianesimo, è stata intesa storicamente come l'exitus, cioè la fuoriuscita dell'anima rispetto al corpo, che di per sé è un fenomeno che non si compie nel tempo, è un fenomeno istantaneo, prima sei vivo, poi sei morto, è come se fosse un confine tra due terre, non esiste in sé la morte, il morire. Ma questo, ad uno sguardo antropologico, rivela delle posizioni che forse ci legano molto alla cultura giudaico-cristiana da cui proveniamo, perché nel mondo giudaico si seppelliva il morto il giorno stesso della morte. Lazzaro puzza dopo tre giorni, Cristo muore il venerdì santo e entro la fine del venerdì santo, anche perché il giorno dopo lo Shabbat si vuole seppellire, perché per tradizione, legata anche ad aspetti squisitamente climatici, il corpo si decomponeva facilmente, il corpo andava sepolto subito e questa cosa in qualche modo innesca il meccanismo, l'idea per cui l'individuo che è morto e che io è sepolto perché la sepoltura, il funerale e quello è il momento di distacco e la parte, la coreografia sociale che mi dice che quel soggetto è morto, ebbene, induce a pensare che la morte sia qualcosa di istantaneo, che davvero possa essere l'exitus, che semmai non sia un attimo ma duri qualche minuto, ma sia una cosa rapida. Stoviando invece i fenomeni germanici, il mio primo campo di ricerca è stato il mondo germanico, ma poi con questo libro sono dovuto salire fino all'Islanda, vedere questa, andare in Russia. Guardate, in popolazioni in cui il morto spesso d'inverno non si poteva seppellire, perché il suolo era gelato. Esistono tra la Slesia e la Moravia delle piccole selve di barelle che si chiamano Tütenbretta, che sono le barelle su cui adagiavano i cadaveri durante l'inverno per aspettare il disgelo e la possibilità di sepoltura. Oppure immaginate, io ho studiato l'Islanda dove il suolo è scavabile per tre mesi l'anno. È evidente che in quelle culture la morte non sia qualcosa di istantaneo e che è evidente che in quelle culture, che sono culture nelle quali, presso le quali la nozione teologica di morte è arrivata anche tardi, perché poi prima del mille ad esempio l'Islanda non diventa una città, una civiltà cristiana. Ebbene, è evidente che in quelle culture la morte sia qualcosa che si consuma nel tempo. Nell'arco di un anno corrisponde alla decomposizione, al fatto che fino a quando esiste un po' di ciccia attaccata al corpo quel corpo sia ancora vivo e questa cosa poi riprendo San Gennaro e concludo la prima domanda perché io poi parto sempre per la tangente. La qualcosa mi faceva pensare che che cosa sarebbe successo se Gesù Cristo fosse nato in Islanda, se la Bibbia fosse stata scritta da nostri antichi progenitori islandesi e non progenitori che vivevano in Palestina. La nostra idea di morte sarebbe stata così istantanea o un Cristo islandese, una cultura della morte islandese o nord-europea ci avrebbe insegnato anche filosoficamente a intendere la morte come un processo e non come un evento. ritornando al discorso di prima, questo discorso della cruentazione cioè il sangue che è ancora vivo veniva posto in relazione con San Gennaro perché noi adesso abbiamo il rituale che conosciamo e che viene mostrato anche in televisione il 19 settembre che è il rituale per cui in determinate date liturgiche il sangue si scioglie. Allora innanzitutto questa cosa è già come dire un po' discutibile perché bisognerebbe dire che in determinate date liturgiche il sangue è esposto quindi noi non sappiamo durante il resto dell'anno il sangue com'è quindi è come dire Francesco De Ceglia è scemo il 20 novembre perché lo vedo soltanto è il 20 novembre ma potrebbe essere scemo 365 giorni l'anno la stessa cosa è per il sangue di San Gennaro ma l'antico rituale prevedeva un rituale cinquecentesco che poi è rimasto in piedi in realtà fino a 700 che la festa più importante a Napoli non è la festa di settembre la festa di maggio cioè la festa della traslazione che poi in genere a Bari è un modo politically correct per dire il furto delle ossa di San Gennaro però capitava che appunto in questa festa che si svolge sempre il sabato precedente la prima domenica di maggio la mattina si portava la testa di San Gennaro che è raccolta in un busto argenteo placato in oro prima in una chiesa poi dopo il 1515 in uno dei seggi della città e il pomeriggio arrivava il vescovo processionalmente come si diceva allora con il sangue di San Gennaro e si diceva che il sangue all'incontro con la testa si scioglieva e su questo nel 500 ci sono tante discussioni se il sangue è il sangue che si scioglie perché si emoziona o è la testa che lancia dei raggi spirituali per delle cose adesso troveremmo troveremmo un po' goffe e si diceva i protestanti dicevano guardate voi dite che questo è un fenomeno soprannaturale avete detto che voi cattolici continuate a dire che esistono questi miracoli avete questo naturale basso e tutto questo sovrannaturale e credeteci ma siete sicuri che la testa presente nel busto argenteo sia la testa di San Gennaro e non la testa di Timoteo che era il magistrato che aveva mandato a morte San Gennaro quindi sarebbe una forma di cruentazione cioè c'è l'assassino e Timoteo c'è il sangue che ribolle alla vista del proprio assassino allora io questo lo trovavo straordinario perché di là dall'aspetto folcloristico e mi faceva capire quanto uno stesso fenomeno apparente fenomeni apparenti cioè non lo scioglimento e la perdita di sangue da parte del cadavere non sono fenomeni apparenti il rapporto di causa-effetto è il fenomeno apparente cioè lo stesso fenomeno apparente che era la perdita di sangue al cospetto dell'assassino e il ribollimento come si diceva all'epoca del sangue di San Gennaro davanti alla testa di San Gennaro o di Timoteo in queste due Europe sono intese in maniera completamente diversa era un modo per immergermi antropologicamente in queste due Europe perché nell'Europa del Nord appunto grande natura e piccola sovrannatura nell'Europa del Sud piccola natura e grande sovrannatura nell'Europa del Nord il sangue e il corpo che continua a vivere anche dopo la morte nell'Europa del Sud in parte per quello che abbiamo detto cioè la decomposizione eccetera i corpi vanno sepolti il prima possibile ma anche per un altro motivo perché noi avevamo la cultura cattolica quindi gli unici corpi che sono titolati a compiere prodigi dopo la morte sono quelli dei santi che devono essere selezionati dalla Chiesa tutto il resto si deve decomporre e di qui sono venuti fuori altri testi che dicevano e allora in fondo il miracolo di San Gennaro non potrebbe essere considerato un fenomeno vampirico perché c'è il corpo di San Gennaro insomma la testa quello che è che in qualche modo si è conservata il sangue di uno che è morto teoricamente nel 305 e quindi quanti 17 18 secoli fa che continua a ribollire la vita persiste e di qui poi abbandonando San Gennaro mi sono incamminato nella strada sulla strada dei vampiri mi hanno travolto e mi hanno accettato perché i vampiri sono meno cattivi di quello che comunemente pensiamo allora chiaramente il sottotesto di tutto il libro di Eceglia è che laddove c'è il sangue che sia il sangue tuo che non sia il sangue tuo dovunque c'è il sangue c'è vita c'è questa cosa qui comunque scorre o non scorre in qualche modo scorre o si muove o si trasforma il sangue è la misura della vita però il vampiro in questo libro di Eceglia è esattamente quella figura che tra tante altre figure etonie misura quella differenza quella distanza tra soprannaturale e naturale adesso quindi perché proprio il vampiro di Eceglia perché non i zombie perché non i fantasmi perché non le larve perché non gli strigoi perché non le streghe perché perché il vampiro più di altri ho una tua invenzione di Eceglia una tua ipotesi il vampiro mi piaceva come storia e soprattutto avendo studiato le carte sui primi vampiri che vengono scoperti comunque quelle carte con le quali l'Europa occidentale scopre quei vampiri trovavo questa immagine del vampiro così diversa rispetto a Dracula di Bram Stoker che secondo me andava raccontata perché per dire innanzitutto per come si dice in questi casi colmare una lacuna editoriale però questo è in genere quando si propone un libro voglio scrivere questo libro per colmare una lacuna editoriale zac te lo bocciano perché nessuno se gliene frega niente che rimanga quella lacuna editoriale ma perché secondo me loro dicevano tante cose di noi cioè io sono del parere che della morte intesa come non il morire ma l'essere morti non si possa dire nulla per fortuna o per sfortuna non sappiamo che cosa significhi esser morti non sappiamo se esiste una vita da di là tutte queste cose però parlare di un'idea condivisa fra tante persone della morte ci permette di capire tanto quelle persone che hanno parlato che cosa sono e quale sia la profonda natura umana ecco perché ho voluto raccontare questa storia in fondo sono uno storico della scienza insegno storia della scienza però mi piace raccontare non tanto la storia della bottiglia d'acqua cioè degli oggetti che ci sono perché in qualche modo è banale mi piace raccontare la storia degli oggetti che non ci sono come la morte i vampiri eccetera perché l'esperimento mentale se io vi dico descrivetemi questa bottiglia ciascuno di voi la descriverà in maniera differente a seconda della propria sensibilità chi inizierà dal colore chi della forma chi è piena che vuota perché la vostra descrizione sarà per metà per così dire ontologia della bottiglia il fatto che ci sia la bottiglia là e che abbia una forma un colore eccetera per metà sarà una vostra proiezione quello che guardate voi e quali sono gli aspetti che voi ritenete più importanti se io vi dico descrivetemi l'amico immaginario chiuso nel vostro armadio la descrizione sarà tutto frutto perché l'amico non c'è oddio forse qualcuno ce l'avrà pure però l'amico non c'è quindi se mi descrivete un oggetto inesistente come un vampiro le streghe già il discorso è un po' più complicato mi direte mi starete rivelando voi chi siete quali sono le vostre paure quali sono le vostre tensioni per questo poi ad un certo punto nella premessa ho scritto io non so se i vampiri esistono io non credo nei vampiri ma loro credono in me e sanno dire tante cose su di me questa è la cosa importante quindi gli oggetti inesistenti che poi oggetto inesistente non è una cosa negativa in assoluto oggetti inesistenti sono anche non so una curva matematica non esiste ma questo non significa che non abbia una sua utilità o il nostro ideale di amore di democrazia non è una cosa che esiste però il fatto che ciascuno di voi ne parli o che intere popolazioni ne parlino in un certo modo mi fa capire non tanto il vampiro chi era ma la gente che ha paura del vampiro fosse perché ho scelto i vampiri perché boh i vampiri quelli che ho incontrato io erano diversi e la parte diciamo più quando mi sono messo sotto a lavorare questo libro perché lo dovevo chiudere c'era un contratto in piedi da un po' di tempo ed è successa una cosa tremenda cioè la pandemia e era come se io in quel periodo fossi entrato in sintonia con la gente delle varie località dei Balcani che da un giorno all'altro inizia a parlare di vampiri guardate come nasce la storia per essere brevi ad un certo punto nel 1718 l'Austria si espande ad est e prende dei territori tra cui la Serbia che fino a quel momento erano stati sotto il gioco ottomano gli ottomani avevano una modalità di controllo del territorio molto più lasca gli ottomani era importante che si pagassero le tasse non volevano controllare invece gli austriaci sono molto più hanno una visione dello Stato settecentesca cameralista eccetera di controllo e alla fine del 1731 arriva una supplica da parte di un paese ai confini con l'impero ottomano a che lo Stato intervenga perché i morti sono risorti e c'è un'epidemia strana non si sa che cosa possa essere successo il luogotenente di Belgrado manda un primo medico immaginate quanto si ha all'inizio si ritenga che sia un problema così ma abbastanza sciocco perché si manda un medico che si occupava di contagi noi lo conosciamo soltanto per cognome sappiamo che si chiamava Glaser gli atti sono scarni e il medico da in questo paese che si chiama Medvegia in Serbia in Medvegia adesso conta quattrocento anime immaginatevi all'epoca dice di aver intervistato i superstiti è vero che molta gente sta sta morendo ma questi superstiti dicono che durante la notte vedono avvicinarsi delle persone che sono morte e queste persone sembrano portare via loro le energie il vampiro storico difficilmente succhia sangue o comunque non non c'è mai una descrizione di prelievo meccanico per così dire con i denti del vampiro sul collo del dell'allettato in realtà estrudono in qualche modo l'energia spesso il fiato in questo assomigliano molto agli incubi della tradizione occidentale e tutti costoro dicono guardate probabilmente c'è una epidemia tra tra morti che si stanno contagiando reciprocamente e le responsabili sono due il vampiro dal punto di vista mitologico è quasi sempre una figura maschile ovviamente ci sono carmille eccetera ci sono figure femminili ma quasi sono costruzioni ad hoc successive se io penso al vampiro penso immediatamente ad un uomo e anche nella cultura tradizionale il vampiro o i suoi omologhi perché c'erano tanti nomi erano uomini ma le colpevoli sono due morte che in qualche modo avrebbero infettato tutti gli altri e queste due donne in realtà i morti delle ultime settimane sono stati già riesumati e sono in bella vista sembrano essere le più floride o comunque le meno decomposte anche se poi un'autopsia successiva rivelerà che è tutto molto fantastico ricordate anche un'altra cosa che i vampiri in genere sono dei mostri invernali nelle culture contadine quando la giornata diventa più breve quando io ho piantato i semi e so che i semi sono lì sottoterra e germoglieranno soltanto se i morti che sono sottoterra li accompagneranno in tutte le culture agropastorali soprattutto balcaniche quel periodo è un periodo di sospensione immaginate anche la nostra festa di Halloween insomma è la prima porta dell'inverno che si apre durante tutto l'inverno la gente vede presenze strane immaginate anche dal punto di vista sociale in culture agropastorali in cui spesso nella cultura ortodossa c'erano anche molti precetti per cui per molto tempo non dovevi mangiare e soprattutto non c'era la luce non c'erano fonti di calore si era molto poveri eccetera la gente passava gran parte della propria esistenza a letto passando in quello che si chiama sonno bifasico dal sonno alla veglia e alla fine non era molto chiaro capire che cosa tu avessi visto durante il sogno e durante la veglia oltre al fatto che il sogno nelle culture popolari è un luogo di incontro con i morti è un luogo in cui le nostre nonne ci dicevano visto il nonno che è venuto a darmi questo messaggio tradizionalmente le cose viste noi adesso non diamo più importanza al sogno perché in un'epoca post-froidiana per intenderci quindi relativamente recente il sogno è un messaggio che io mando a me stesso e quindi noi quando andiamo a dormire pensiamo che il successivo aumento di lucidità e di vita sociale sarà quando ci svegliamo per loro no il sogno era un momento di verità di pratica parashamanica di conoscenza di incontro con i morti di incontro con la malattia durante i sogni vedevano le proprie malattie che si materializzavano o come nella incubazione nell'incubazio di riconoscimento del Dio che avrebbe portato via la malattia quindi vedono queste donne e dicono che le prime due sospettate sono queste due donne e ci raccontano in questi documenti in questi documenti vanno letti molto in filigrana perché naturalmente sono referti militari che dicono quello che devono dire e o li leggi di traverso o cerchi di fare il contropelo o ti dicono delle cose molto banali che poi hanno raccontato anche altri storici ben più illustri di me ma c'è una donna più anziana dice una donna anziana e poi si scopre che al massimo aveva una cinquantina d'anni e comunque questa donna anziana dicono si chiama Milizza e proveniva dal da oltre il confine ottomano quindi solo per questo puzzava un po' aveva quella stranezza anche nella morte che hanno gli ottomani e soprattutto si racconta che durante la vita era molto secca molto magra e questo ci fa pensare forse che avesse difficoltà anche a trovare del cibo era una donna sola perché non si parla di famiglia e una volta aperta la sua tomba viene trovata appunto repleta di sangue gonfia la qualcosa è normale nelle prime fasi della decomposizione ma per loro si sta gonfiando delle energie degli altri sta assumendo presso di sé tutte queste energie e c'è un'altra donna che viene considerata tra le arci vampire cioè tra tra coloro che probabilmente hanno portato l'infezione che in qualche modo poi apparirebbero nei sogni o nella realtà della gente che si chiama Stano o Stanna a seconda dei sono due i referti e la storia devo dire di questa donna anche qui letta tra le righe io l'ho trovata ancora più straziante perché da quello che si capisce sono poche righe del vero si dice che questa donna è morta di parto e si racconta quindi anche qua donna morta di parto anche secondo tutte le tradizioni insomma la donna morta di parto ritorna perché non ha portato a compimento quello che doveva essere il compito principale della sua esistenza ma si dice che il bambino poi non si capisce se è maschietto o una femmininione un femminoce perché in tedesco è appunto da skin quindi può essere qualunque cosa viene sepolto non nel cimitero ma dietro una staccionata vicino alla casa dove viveva la madre era la cosiddetta sepoltura dell'asino cioè sepoltura per i non battezzati e mi mi straziava un po' l'idea di immaginare questo fatto che non si dicesse dietro la staccionata vicino alla casa dei genitori ma la casa della madre potrebbe essere stata anche lei una donna una donna sola e guardate quando poi ci saranno le autopsie perché arriverà un altro medico Flückinger in realtà un chirurgo che potrà compiere le autopsie eccetera il corpo del bambino la seconda volta non si troverà più perché si dice per una sepoltura malfatta dopo questi fatti il secondo chirurgo arriva dopo dieci giorni il corpo del bambino è stato divorato dai cani quindi immaginavo questa donna morta di parto senza nessuno accanto e questo bambino a cui era stata data una sepoltura provvisoria e che tra un'ispezione e l'altra non era stato ricoperto neanche con un po' di terra tanto che i cani erano andati a divorarlo quindi bambino non battezzato bambino bambina non battezzato e con con una mala sorte che gli aderiva addosso dal momento in cui non era stato più nel corpo della madre e concludo appunto arrivano arriva poi una seconda ispezione in cui per capire come queste queste storie si nutrano di una continua risemantizzazione degli stessi fatti di racconti eccetera al nuovo chirurgo che arriva fanno vedere gli stessi corpi e si capisce che questa gente che questa gente aveva visto erano i castelli della propria disperazione sono gli ultimi degli ultimi coloro che possono risorgere la risurrezione è una maledizione una risurrezione che è una parodia di risurrezione nel secondo nel secondo caso quando arriva il secondo chirurgo si inventa un caso più remoto successo cinque anni prima e che invece di permettere cioè invece di lasciare due vettrici isolate milizza e stanno riconduce tutto ad un unico capro respiratorio quanto è facile quanto è bello avere una causa unica ricordatevi anche durante la pandemia quando volevamo il paziente zero volevamo uno che ci spiegasse perché fosse avvenuto tutto quel contagio e viene raccontato il fatto di un vampiro che c'era stato circa cinque anni prima quindi nel 1725 che però nel frattempo era morto era morto e rimorto cioè era morto era andato a seccare la gente ed era stato ucciso nel frattempo infettando degli animali delle bestie la cui carne sarebbe stata mangiata da milizia e stanno e quindi avrebbe portato avanti il contagio per cinque anni ed è questo il mio punto di partenza acustico perché si dice che questo soggetto che poi viene chiamato Arnold Paul ma è ovviamente una germanizzazione del nome nel momento in cui si racconta non c'è più il corpo però il chirurgo racconta quello che gli raccontano e pensate quanto sia lost in translation perché quelli erano tedeschi cioè austriaci parlavano austriaco la gente del luogo parlava un dialetto serbo c'erano gli interpreti si capiva non si capiva e si dice che Arnold Paul quando viene dissotterrato perché si capisce che era un vampiro gli tagliano la testa e nel momento in cui si taglia la testa si sente un urlo probabilmente anche la i gas putrefattivi o hanno colpito la glottide ci possono essere mille motivi per cui se tagli la testa o morto dopo un po' di tempo senti un po' di rumore che la fantasia ti fa diventare l'urlo del vampiro ed è questa la notizia che poi va a finire su tutti i giornali d'Europa facendo del 1732 l'anno dei vampiri la notizia che si apre con Arnold Paul che in realtà era morto è stato eliminato cinque anni prima il vampiro che urla e mi sembrava quasi scrivendo questo libro di riascoltare quest'urlo che ad ogni ripresa di giornale e questa è una grande fake news che come le fake news di adesso senza internet non potrebbero esistere là senza i giornali settecenteschi non sarebbe mai esplosa ad ogni ripresa di giornale diventava più forte e quindi mi sembrava proprio un suono disturbante sembrava quasi un bollitore lasciato sul sul fornello che inizia e poi alla fine non ricordavi più niente sentivi soltanto questo fischio enorme i vampiri stanno tornando urlando dall'est gli europei dell'ovest hanno paura ed è lì ho detto questa è la mia storia mi devo lanciare in questa storia che era troppo affascinante allora in realtà la questione che corre cola anzi nel libro di De Ceglia riguarda anche il fatto che i corpi di questi vampiri qualsiasi nome avessero sono corpi in qualche modo colonizzati o sono corpi difformi in che senso nel senso che i vampiri in qualche modo nascono quando si incontrano delle culture dove c'è sospetto dove si può definire lo straniero quindi in qualche modo i vampiri dicono e infatti c'è un fiorire diciamo di scritture intorno al vampiro perché siamo esattamente in quel punto indefinito della caduta dell'impero romano come diceva Borges in cui non sappiamo diciamo come definire lo straniero io tra l'altro è vero che la resurrezione era una resurrezione malata in qualche modo quindi non stai guadagnando il paradiso però è vero che il conte così come Stoker lo disegna è esso stesso uno straniero perché chiaramente siamo successivamente alla seconda rivoluzione industriale chiaramente l'impero britannico è un impero coloniale chiaramente lui sta venendo da un'altra parte diciamo sono finiti i grandi imperi europei l'Inghilterra è padrone signora e quindi in qualche modo il conte Dracula nonostante abbia i suoi castelli e nonostante venga da un milie da un'estrazione aristocratica non è straniero abbastanza per poter essere diciamo temuto in qualche modo quindi per me la figura del vampiro in qualche modo anche per questa struttura per questo sangue che nel libro di De Celia si capisce in fondo il sangue non solo infetta ma il sangue protegge da infezioni vampiriche quindi il sangue fa tutto il vampiro è sinceramente il meticcio in che senso nel senso che il vampiro si nutre e si pasce nel sangue di tutti quindi il vampiro è la figura che dice che sostanzialmente l'eternità è data dal meticciato e dalla metamorfosi dalle cose che si mischiano le cose pure non esistono e sono l'unica vera finzione letteraria la purezza è la finzione letteraria ciò che puro non è non è una finzione letteraria due eccezioni prima Francesco Paolo De Celia diceva il vampiro dice molte cose di noi e io di questo sono convinta però c'è un racconto degli anni 50 e del 900 di Robert Shackley che si chiama Fantasma 5 dove ci sono un fisico e un chimico che hanno un'agenzia di ripulitura mondi che è un'agenzia completamente sfigata non li chiama nessuno loro stanno per fare la fame e a un certo punto però li chiamano arrivano a loro e dicono guardate bisogna andare a ripulire Fantasma 5 e loro sono felici dicono vabbè andiamo a ripulire Fantasma 5 quindi un fisico rimane sulla terra e il chimico parte il chimico parte e arriva sul Fantasma 5 e il Fantasma 5 è il posto dove tutti vogliono stare ci sono 21 gradi fissi ci sono l'acqua ci sono fonti di acqua ci sono le nuvole è un'aria perfetta però va nel campo base dove c'erano state le altre spedizioni e non trova nessuno trova gli abiti lasciati come se fosse stato abbandonato e non trova nessun corpo non trova niente quindi lui si mette a dormire e dice mi raccomando però quando mi sveglio se succede qualcosa tu stai pronto ovviamente la notte si sveglia sente un rumore e vede questi vestiti questi abiti che va lasciato sulla sedia che gli vanno incontro spara gli abiti si afflosciano e succedono varie cose così cioè ci sono delle manifestazioni nemiche che gli vanno incontro a un certo punto il fisico a terra capisce cosa succede e capisce che cosa fa l'aria di Fantasma 5 l'aria di Fantasma 5 rende reale reifica tutti gli incubi e tutti i mostri che uno c'ha in testa fa questo cioè un pre solaris cioè Fantasma 5 sostanzialmente quindi dice ho trovato l'antidoto adesso io arrivo con l'astronave ti prendo buttiamo l'antidoto sul paese bonifichiamo sul pianeta bonifichiamo il pianeta e quindi saremo ricchi cosa succede però che mentre mentre l'astronave diciamo a terra e poi va via un po' di aria di Fantasma 5 entra nell'astronave e quindi a un certo punto cosa succede che nell'aria dell'astronave comincia questo mostro gigantesco a inseguire il chimico e il fisico e loro cosa fanno perché ognuno nel suo armadio c'ha l'amico immaginario ognuno nel suo armadio c'è il mostro immaginario ognuno c'ha qualcuno che dice qualcosa di te però la soluzione e questo è l'antropocentrismo è sempre la stessa cioè in qualche modo cosa fanno lui si ricorda che per abbattere questi mostri si fa quello che si fa da bambini cioè ti metti il suolo sulla testa e il mostro scompare quindi diciamo in qualche modo dice qualcosa di te ma soprattutto dice qualcosa di come gli esseri umani diciamo combattono tutto quello quello che è avverso sostanzialmente non vogliono vedere o scappano visto che siamo animali con le gambe l'altra cosa sull'immaginazione la figura del vampiro a me interessa molto mi è sempre interessata molto perché coincide abbastanza con l'immaginazione matematica nel senso e coincide io non sono d'accordo De Celia che la curva matematica è un oggetto che non esiste un oggetto inesistente io penso che noi chiamiamo inesistente le nostre immaginazioni che non sono metamorfiche quindi noi abbiamo un problema diciamo di metamorfiche noi abbiamo un problema diciamo di sappiamo mettere insieme i pesci e le donne sappiamo mettere insieme gli uomini e i cavalli e chiamarli centauri quando abbiamo i quadrati i triangoli e le cose siamo degli oggetti astratti quindi è astratto oggetto inesistente tutto quello che non diciamo deriva da qualcosa che non abbiamo visto e mischiato e questa è la cosa diciamo che per me il vampiro in qualche modo ha a che fare con delle figure matematiche perché è una metafora di cose che però ci siamo dimenticate quando sostanzialmente capisci che il paletto serviva per attaccare la gente alla bara perché non volevano che si alzassi quando poi capisci gli tagliamo la testa perché sostanzialmente non volevano come dici tu che mordessero c'è un capitolo tra tutti i geniali i capitoletti del libro di Decelia ce ne manca secondo me solo uno cioè uno si doveva chiamare vampiri e tamburi pochissimi tamburi perché Decelia fa un parallelo non solo tra il vampiro e il santo ma fa pure il parallelo tra il vampiro e il tamburo perché è una cosa diciamo molto strana che però spero diciamo che tu possa in qualche modo raccontare quanto al conte Dracula così come lo conosciamo anche il conte Dracula è derivativo è derivativo è una storia che racconta un'altra storia è un mostro che deve raccontare un amore che non può essere nominato la prefazione diciamo di Tommaso Pincio diciamo all'edizione in Audi lo dice molto chiaramente però la cosa interessante è che siamo sulla prima soglia e qui c'è Davide Esisto in prima fila la prima soglia di una globalizzazione che non è una globalizzazione solo di corpi e di geografie è una globalizzazione di dati quindi quella cosa che Decelia conosce molto bene della distribuzione dei precordi dei resti diciamo da una parte all'altra dello smaltimento delle spoglie in realtà adesso ce l'abbiamo tutti quanti noi con la registrazione dei nostri dati che sono conservati in server che stanno in geografia in luoghi distantissimi e che quindi il nostro noi esattamente come i corpi dei santi sta messo in diverse parti solo che questo questo nostro noi non è più biologico è biografico quindi sostanzialmente adesso siamo nella fase del vampiro della biografia non più del vampiro della biologia e per questo è interessante leggere un libro che in qualche modo anticipa il vampiro della biografia riprendendo l'invenzione settecentesca siamo appunto a preseguali siamo a un attimo della rivoluzione francese siamo a un attimo della rivoluzione francese e siamo diciamo appena appena cento anni prima delle geometrie neoclidei che stanciranno diciamo un cambiamento ontologico ed epistemologico grandissimo quindi in questo settecento sulla soglia questo è già un vampiro biografico e non è solo un vampiro biologico perché in qualche modo deve aggregare le differenze di cultura in un'Europa che si sta coagulando esattamente come il sangue quindi sono tanti temi da prendere dove il tema secondo me principale più cogente più urgente rispetto alla lettura alla reappropriazione della storia dei vampiri è noi il nostro corpo smembrato come un corpo come i corpi di santi in varie parti dal punto di vista dei dati quelli che sono dati che infatti vengono chiamati sensibili sono sensibili perché in qualche modo hanno a che fare con lo smembramento dei corpi che erano corpi normali adesso sono corpi in qualche modo santificati digitalmente questa è la cosa interessante per cui secondo me è importante leggere adesso questo libro e i libri sui vampiri e dei vampiri perché siamo sulla soglia di una globalizzazione nuova e l'eroe di questa globalizzazione nuova è il vampiro perché il vampiro è sempre stato l'eroe delle stranietà dello straniero e di quanto lo straniero può essere vissuto come pericoloso oppure come un'occasione di eternità che dire gli spunti che ha dato Chiara sono tantissimi in fondo il vampiro questo è messo nella conclusione è il capro espiatorio succedeva appunto c'era un'epidemia una carestia una cosa costruisco la storia intorno ad una persona e vado a disseppellire quella persona sperando che sia indecomposta dandola alle fiamme e in qualche modo sentendomi padrone della mia vita riprendendo possesso della mia vita in qualche modo inventando la storia perché poi i vampiri quando noi abbiamo le descrizioni le narrazioni delle loro vite il soggetto Thoth non lo so lo stregomastro Kunze durante la vita non aveva fatto nulla di male era soltanto diventato molto ricco in genere i vampiri sono molto poveri lui diventa molto ricco e la gente incomincia a dire che tutti quei soldi non si saranno fatti da soli anche perché ad un certo punto lui viene calciato da un cavallo e dice che dolore mi brucia tutto la gente guarda non trova non trova nulla e questo è probabilmente perché sta camuffando il patto col diavolo che ha fatto il diavolo gli ha dato dei soldi adesso vuole indietro la sua anima e lui deve sparire dalla scena far finta di morire subito dopo quando lui muore si verificano dei fenomeni molto strani eccetera e tutti raccontano la storia in maniera luciferina molti lo vedono vicino al cimitero vedono delle luci blu addirittura in Slesia c'era la tradizione a dire quanto queste storie ci possano anche far sorridere la tradizione per cui di giovedì non si dovessero lavare i piatti e lo stregomastro il fantasma il vampiro lava i piatti alle signore per farli sparire ora questo ci fa capire una cosa fondamentale che il vampiro è la persona viva o morta sulla quale accuciamo una storia per renderla responsabile dei nostri mali e questo sicuramente con internet con i social in cui le nostre immagini i nostri dati vengono visti da tutti verranno visti da tutti probabilmente senza che noi siamo lì a controllare è sicuramente un problema di grande attualità non li chiameremo più vampiri li chiameremo fantasmi digitali li chiameremo noi stessi e poi probabilmente bisognerà capire se è più vero il Francesco De Ceglia in carne e ossa o quella cosa che si stacca da Francesco De Ceglia e va sui social perché potrebbe essere una sorta di anima digitale di avere più ricchezza di me stesso cioè io so di me più cose di quanto Whatsapp sappia di me non credo Whatsapp sa più cose di me di quanto io sia me stesso e non è che domani arriverà il signor Whatsapp e mi costringerà a cedere la mia identità perché Whatsapp è più me di quello che sono io è ovvio che sono problemi che non hanno davanti i quali adesso siamo spaventati come se fossero dei vampiri e per quanto riguarda quello che tu dicevi sui santi anche lì forse manca un pezzo ai nostri ascoltatori trovavo questa storia fantastica fantastica perché appunto noi cattolici io non sono credente però metto da questa parte ma non lo sei diventato scrivendo il libro sui vampiri io spero di essere colpito dalla grazia perché prima hai detto non so se esiste una vita dopo la morte ma io non lo so perché nulla si può escludere è ovvio che per me non esiste però io non dico le cose che non so non so neanche se esiste dumbo volante trasparente qui però io sono inclina a pensare che non esista però tante cose che in un'epoca storica sembravano implausibili in altre epoche storiche sono sembrate plausibili quindi per me non esiste però non ho la dimostrazione dell'inesistenza di Dio come della inesistenza della vita oltre la morte per gli elementi che ho mi sembra una cosa molto difficile però dicevo per quanto riguarda i santi noi viviamo questa dimensione per cui l'unico corpo che non si decomponeva e che poteva avere questa azione a distanza era il santo il corpo del santo incorrotto e poi anche là non pensiate che ci siano sempre stati i santi incorrotti e sempre ce ne saranno nel senso che nei primi secoli del cristianesimo ciò che era importante erano eventualmente le ossa di un bel colore e soltanto nel basso medioevo e poi con il concilio di Trento che si cercano i corpi con la ciccia addosso perché è una prova giuridica tanto più cogente del fatto che noi abbiamo i santi che non si decompongono voi che siete protestanti siete dei puzzoni perché non avete questo miracolo quindi per noi il magico viene assorbito da questa figura del santo e da tutto il magico sacramentale della chiesa naturalmente esistono altre forme di magia e quindi noi poi diciamo ai protestanti soprattutto ai luterani siete defessi perché se trovate un corpo non decomposto o è un santo ma ve lo dobbiamo dire noi oppure è uno che non si è decomposto naturalmente per le condizioni climatiche eccetera i luterani dicono voi cattolici siete dei fessi perché se troviamo un corpo non decomposto è quello che loro chiamavano un axera cioè un divoratore di sudario perché nell'immaginario germanico si mangiava il sudario il morto si mangiava il sudario talvolta mangiava se stesso anche vicini di sepoltura però anche là è una metafora della fame tutte queste figure mitologiche nascono dalla fame un'esperienza che noi abbiamo dimenticato la fame il dolore il buio il freddo sono cose l'alternarsi delle stagioni sono cose che noi conosciamo letterariamente ma con quella virulenza con quella forza non le potremo più conoscere si spera e loro dicono se è un morto non decomposto è un morto che è rimasto tale per colpa del diavolo quindi è un axere no non esistono i santi ci sono cadaveri che non si sono decomposti quindi questa cosa speculare per cui anche là lo stesso oggetto il cadavere non decomposto poteva essere visto in un modo o nel modo completamente opposto però all'interno di questa storia perché poi noi parliamo sempre del rapporto tra nel periodo in considerazione tra cattolici e protestanti ma c'è una triangolazione perché i fatti succedono quasi tutti in zone di cultura ortodossa il problema è che gli ortodossi credono sia i santi sia i vampiri poi boh quindi nel momento in cui trovi un cadavere non decomposto si apre un ventaglio di possibilità perché potrebbe essere un santo o un vampiro questo secondo me è veramente lo strappo nel cielo di carta di Pirandelliana memoria per dire quanto siamo legati a semiotizzare a cercare dei segni su qualcosa che è così perché è così perché la natura l'ha reso così e c'è questo concilio questo sinodo di Mosca del 1656 credo in cui alla fine viene emanato un editto e si dice nel momento in cui trovate dei corpi non decomposti chiamateci perché potrebbero essere dei santi o dei vampiri quando sei davanti a questa evidenza diciamo di attività mitopoietica fatta ridosso del corpo umano sapisci che il problema è la corporeità il fatto che quel corpo si trova in una situazione diversa rispetto a poi la religione anche l'equilibrio omeostatico tra le credenze religiose fa sì che due fenomeni che siano del tutto identici e la realtà vengono interpretati come uno molto positivo chissà che nelle nostre chiese non sia stato santificato qualche vampiro ma soprattutto e qui chiudiamo perché si chiama la vita per sempre ma non la presentazione per sempre soprattutto l'idea che i regimi in in fasi di cambiamento e di non stabilità si concentrano sul governo dei corpi e su questo governo dei corpi dicono e stabiliscono cosa è vita cosa è morte cosa è naturale cosa è non naturale cosa è accettabile e non accettabile e rifanno l'ipistemologia a partire dai corpi e questa è una cosa che secondo me la figura del vampiro così come indagata nel saggio di Francesco Decellia è importante da leggere perché è una cosa molto politica perché in periodi di incertezza di regimi di qualsiasi natura c'è una questione di governo dei corpi oggi sono i corpi delle donne prima erano i corpi diciamo degli ottomani poi saranno i corpi diciamo degli nativi americani tutte sono delle cose molto interessanti perché c'è il vampiro grazie signori buonasera grazie a tutti Grazie.